Una circolazione anticiclonica associata ad un promontorio sul Mediterraneo centrale che si estende dal Nord Africa al mare del Nord sta interessando il Veneto con un aumento delle temperature e del tasso di umidità che potrebbero favorire lo sviluppo di temporali di calore specialmente sulle zone montane. La regione Veneto ha emesso l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica che conferma la possibilità di forti temporali nelle ore pubenidiane e serate di lunedì 10 agosto, specie sulle Dolomiti. Martedì 11 agosto si potranno verificare fenomeni temporali schianchi intensi su prealpi e zone montane. Visti i fenomeni previsti, il Centro funzionale della protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione fino alla mezzanotte di mercoledì 12 agosto. Grazie a tutti!